Bene, in riassunto, la pace è un sogno per il momento, però il primo punto importante è che se noi influenziamo gli altri, però veramente che influenziamo gli altri, con questo noi causiamo che questo mondo scompaia. E vediamo, invece di questo, le relazioni tra di noi che se tutto è spirituale. Questa è la prima cosa. Non che io dico che così si possa realizzare, oggigiorno, che non è qualcosa di pratico per il momento. E il secondo è che l'opposizione è questo, che quando l'essere umano capisce quando è più grande, però per portarlo alla correzione è qualcosa di completamente diverso, per alzarlo dall'animale, dargli una direzione, questo è già il grado di Adam. Per questo c'è una contraddizione nella vita di questi esseri, di come guidarli, dove guidarli.